Grazie a tutti. Sì, intanto è un bel evento perché presenta un contratto unico nel suo genere. In questo momento non ci sono altri contratti. Parleremo sicuramente dell'impatto che questo contratto ha sul territorio e allo stesso tempo parleremo anche di nuove opportunità di lavoro, di nuovi cambiamenti, di come cambia il lavoro. Ecco, questo è quello che si cercherà di fare dando uno spettro e un'idea a 360 gradi di quello che può essere l'impatto del contratto sul territorio nazionale. In un momento di difficoltà occupazionale è possibile che anche da questo settore possa arrivare una spinta, posti di lavoro, proposte? Sì, certo che sì. Il settore sta crescendo in modo particolare per cui sicuramente avremo una spinta nel lavoro elevata. Penso proprio di sì.